Lassù, sperduti nella vastità dello spazio, vi sono pianeti più strani di quanto uno scrittore di fantascienza possa immaginare. Per la prima volta nella storia, gli astronomi stanno scoprendo mundi al di là del nostro sistema solare, posti dove il ghiaccio è caldo e la pioggia è fatta di ferro. Sono sconosciuti, bizzarri e imprevedibili. E da qualche parte, nascosta tra questi strani mondi, gli studiosi potrebbero effettuare la più grande scoperta della storia, un pianeta come il nostro, un mondo alieno. 6 marzo 2009 Questo razzo Delta II sta completando i controlli pre-lancio. È l'inizio di una missione incredibilmente ambiziosa. L'osservatorio spaziale Keplero passerà al setaccio 100.000 stelle in cerca di pianeti di tipo terrestre. È il culmine di un viaggio iniziato più di dieci anni fa, con una delle più importanti scoperte scientifiche di sempre. Nel 1995, l'astronomo svizzero Michel Mayor e il suo team conducono un'osservazione di routine sulle stelle nella costellazione di Pegaso, a 50 anni luce da noi. Ma gli strumenti mostrano qualcosa di strano. Una stella ondeggia e sbanda violentemente. Una delle stelle mostrava una velocità variabile nel tempo. Cosa può essere in grado di disturbare una stella grande come il nostro Sole? Mayor dà una risposta radicale. Un pianeta. Ma nessuno ha mai visto un pianeta intorno a un'altra stella simile al Sole. Il problema di trovare pianeti intorno alle altre stelle è che si perdono nel bagliore. La luce flebile dei pianeti si perde nel bagliore delle stelle. A dispetto delle probabilità, Mayor si fida dei suoi dati e è convinto che gli sbandamenti siano causati dalla trazione gravitazionale di un pianeta. Quando lessi della scoperta di Michel Mayor, fui molto scettico. C'erano state molte false scoperte di pianeti extrasolari, quindi pensai, ecco, ci risiamo. Here we go again. Però decisi di osservare la stella per quattro notti di seguito e rimasi senza parole nel constatare che Michel aveva assolutamente ragione. Mayor e il suo collega Didier Kelo annunciano la scoperta che scuote alle radici il mondo scientifico. Avevano ottenuto le prime prove riproducibili dell'esistenza di un pianeta intorno ad una stella simile al Sole. Chiamato ufficialmente 51 Pegasi B, il pianeta viene soprannominato Bellerofonte, come l'eroe greco capace di domare il cavallo alato Pegaso. È un pianeta che infrange tutte le regole. Bellerofonte brucia nella luce della sua stella, a temperature di circa 1800 gradi Fahrenheit, quindi quasi 1000 gradi centigradi. È quasi 150 volte più massiccio della Terra ed è un gigante gassoso come Giove. Sono pianeti fatti più che altro di idrogeno ed elio che negli strati esterni rimangono gas, ma all'interno vengono compressi a pressioni tali da cambiare stato. Si tratta di un pianeta diverso da quelli del nostro Sistema Solare. È quello che gli astronomi chiamano un Giove Caldo. Per farvi un'idea di cosa sia un Giove Caldo, pensate ad un flusso di lava incandescente. La Terra si trova a 93 milioni di miglia, o 150 milioni di chilometri, dal suo Sole. I Giove Caldi sono 100 volte più vicini alla stella e assorbono 10.000 volte più luce solare. Mettiamo che questa sia una stella e questo un Giove Caldo che si trova di solito a circa 3 diametri stellari. Quindi sarebbe 1, 2, 3. La distanza tra i due sarebbe questa. I Giovi Caldi hanno una rotazione sincrona e mostrano alla stella sempre lo stesso lato, come la nostra Luna con la Terra. Su un lato è sempre giorno e sull'altro è sempre notte. Se mi trovassi su un Giove Caldo, dovrei rimanere sul lato oscuro, sperando di usufruire di un po' del calore proveniente dall'altra metà. Le escursioni termiche rendono l'atmosfera di Bellerofonte estremamente ventosa. L'aria bruciata dalla stella sale di quota. Aria più fresca soffia rapidamente verso il basso per rimpiazzarla, proprio come sulla Terra. Il risultato è un vento a migliaia di chilometri all'ora, ben al di là di ogni nostra immaginazione. L'estremo irraggiamento non permette l'esistenza di vapore aqueo, ma questo non vuol dire che non vi sia pioggia. È troppo caldo perché si formino nuvole d'acqua, ma non troppo caldo per nuvole di ferro. Il vapore di ferro resiste a temperature molto più elevate rispetto all'acqua. Le piogge, quindi, sarebbero diverse da quelle che conosciamo. Certo, non basterebbe uscire con l'ombrello. La pioggia di ferro lo ricoprirebbe in un istante e lo farebbe a pezzi. Il cielo di Bellerofonte è interamente occupato da cortine di colore. Particelle cariche provenienti dalla stella causano aurore molto più spettacolari di quelle visibili ai nostri poli. Ma questo mondo appena scoperto ha una caratteristica ancora più incredibile. Compie un'orbita completa in poco più di quattro giorni. Nessun pianeta che si rispetti gira intorno al Sole in così poco tempo. Nel nostro sistema solare non abbiamo niente del genere. La brevità dell'orbita rappresenta una sfida alle ipotesi consolidate sulla formazione dei pianeti. Il fatto che il pianeta concludesse un'orbita in quattro giorni era un enigma, finché una notte mi venne un'illuminazione. Poteva essere la prova che i pianeti possono migrare verso l'interno dell'orbita. La risposta emerge proprio dal meccanismo di formazione dei pianeti. I pianeti sono un prodotto secondario della nascita delle stelle. Quest'ultime creano un grande disco di polveri nel quale si formano anche i pianeti. Molto di quanto sappiamo in proposito lo dobbiamo al telescopio Hubble e alle sue osservazioni sulla nebulosa dell'Aquila. Questa nube interstellare è piena di dischi di polveri e gas. Al centro di ogni disco si forma un gigantesco grumo di polveri. Le temperature raggiungono i 10 milioni di gradi centigradi e si producono gli stessi fenomeni di fusione nucleare che tengono in vita il nostro Sole. È nata una stella. Le radiazioni prodotte dall'evento generano un vento stellare che spazza via le polveri residue. Ma piccole quantità di detriti sopravvivono e rimangono in orbita intorno alla stella neonata. Col passare del tempo la polvere si aggrega in corpuscoli che poi diventano asteroidi che poi diventano pianeti. I nuovi pianeti migrano all'interno del disco fino a trovare un'orbita stabile. È per questo che Bellerofonte è così vicino alla sua stella madre. Ma un altro mondo appena scoperto ha trovato la sua orbita in un punto in cui nessun pianeta dovrebbe avventurarsi. 2001 Il telescopio spaziale Hubble punta verso una stella misconosciuta a circa 150 anni luce dalla Terra nella costellazione di Pegaso. È la stessa regione dove sei anni prima è stato scoperto Bellerofonte. Hubble sta seguendo un nuovo Giove Caldo scoperto dall'astronomo Geoff Marsy. Ma questo pianeta è diverso dal precedente. Ne avrete sentito parlare. È HD 209458B. È un nome terribile. Un nome terribile per un posto orribile. HD 209458B è stato soprannominato Osiride come il dio dei morti degli antichi egizi. Osiride è ben 200 volte più massiccio della Terra e si è avvicinato pericolosamente al suo sole. Distante appena 4 milioni di miglia circa 6,5 milioni di chilometri dalla superficie della stella Osiride è un vero e proprio inferno. La temperatura media giornaliera è di più di 1000 gradi centigradi. Più che un riscaldamento globale questa è una frittura globale che fa sì che Osiride perda 500.000 tonnellate d'aria ogni secondo. c'è una perdita un flusso costante di idrogeno ed elio che crea una grande nube intorno al pianeta. È una sorta di immensa emorragia. Gli scienziati ipotizzano la presenza di una colossale scia di gas che segue il pianeta per migliaia di chilometri. Osiride rappresenta un'opportunità senza precedenti per gli astronomi. Usando Hubble analizzano la turbolenta atmosfera del pianeta. Per la prima volta possiamo conoscere la composizione dell'atmosfera di un pianeta extrasolare. Sorprendentemente Hubble rileva molti degli elementi chimici necessari alla vita. Sodio, carbonio, idrogeno e ossigeno. Ma Osiride è troppo caldo per la vita come la conosciamo noi. in realtà esistono organismi che vivono ad alte temperature. Ma i giovi caldi non hanno una superficie solida quindi la vita si ridurrebbe a microbi galleggianti nell'atmosfera. Sulla Terra ne abbiamo vari esempi che però si sono trasferiti nell'atmosfera in un secondo tempo il che esclude che Osiride possa ospitare la vita. Gli astronomi hanno individuato molti giovi caldi dopo la scoperta di Bellerofonte nel 95. Ma le condizioni di questi mondi rende impossibile lo sviluppo della vita. Tuttavia uno di questi giganti gassosi propone una serie di enigmi evoluzionistici. Geoff Marcy ha scoperto l'incredibile comportamento di un pianeta orbitante intorno a una stella chiamata 16 signus b a circa 70 anni luce da noi nella costellazione del Cigno. Il pianeta assumeva un'orbita chiaramente allungata che lo portava molto vicino e molto lontano dalla stella madre. Questo andava contro le nostre concezioni basate sul nostro sistema solare dove tutti i pianeti girano intorno al Sole in orbite quasi circolari come i solchi di un disco in vinile. Come un enorme yo-yo spaziale il pianeta gigante uscilla avanti indietro nel suo sistema solare. È come se la Terra si avvicinasse al Sole di 25 milioni di miglia più di 40 milioni di chilometri per poi essere catapultata oltre Marte e verso Giove ogni anno. e come tutti i giganti gassosi del nostro sistema solare questo pianeta yo-yo possiede alcune lune. Mars ipotizza che una di queste lune possa essere simile alla Terra. È qui che la storia si fa interessante. immaginate una luna rocciosa con laghi oceani forse anche corsi d'acqua in superficie. La luna orbita intorno al suo pianeta e insieme ad esso orbita intorno alla stella. A differenza della nostra luna priva di atmosfera questo sarebbe un mondo vivo e dalle stagioni estreme. sulla Terra le stagioni sono causate dalla sua inclinazione. Qui sono causate dall'orbita allungata. Un pianeta con orbita così allungata non può non subire tremende variazioni stagionali nel corso dell'anno. Mentre si avvicinano al punto più prossimo alla stella il pianeta e la luna vengono completamente bruciati. È l'inizio dell'estate. L'atmosfera sulla luna è spazzata da tempeste devastanti. I nostri uragani di categoria 5 sono sbuffi di vento in confronto ai mostruosi vortici che si formano qui. L'acqua superficiale evapora e forma una coltre di nubi. Le temperature crescono vertiginosamente. L'acqua e i gas si riscaldano. Interi oceani diventano vapore. Una sorta di gigantesca sauna. al culmine dell'estate la luna presenta temperature superiori ai 400 gradi centigradi. È il punto di maggior avvicinamento alla stella. L'anno dura 26 mesi solo due dei quali occupati dall'estate. Ma che estate! Poi il pianeta e la sua luna si allontanano dalla zona calda. Le temperature calano fino a livelli che noi troveremmo confortevoli. Con l'arrivo dell'autunno le piogge tornano a bagnare la superficie bruciata della luna. I bacini secchi degli oceani tornano a riempirsi. Il livello del mare cresce e ridisegna le coste. Le condizioni tornano tranquille mentre il pianeta e la luna scendono nel gelo profondo dell'inverno. Ora, a più di 200 milioni di miglia o 320 milioni di chilometri dalla stella, il cielo è buio anche di giorno. Le temperature crollano fino a meno 160 gradi centigradi. Gli oceani ghiacciano e le calotte polari si espandono chiudendo la superficie della luna in uno strato di ghiaccio spesso diversi chilometri. L'inverno è lungo, ben 17 mesi. ma con l'arrivo della primavera la stella torna a splendere nel cielo spezzando e sciogliendo violentemente la coltre di ghiaccio. Grandi iceberg crollano in un oceano tempestoso e in rapida crescita. Per due brevi e preziosi periodi il disgelo primaverile e le piogge autunnali il clima della luna diventa vivibile e confortevole. A circa 93 milioni di miglia o 150 milioni di chilometri dalla stella una distanza simile a quella tra noi e il sole l'orbita ellittica del pianeta e della sua luna attraversa un'area che gli scienziati chiamano zona abitabile. Le condizioni qui sono perfette per la vita. La vita ha bisogno di condizioni particolarmente equilibrate. Il pianeta non deve essere né troppo vicino né troppo lontano dalla stella. Ogni stella ha una zona abitabile la cui posizione e ampiezza dipende dalle sue dimensioni e dalla sua temperatura. Nel nostro sistema solare Venere segnala il limite interno e Marte quello esterno. La Terra e tutte le sue forme di vita si trovano esattamente nel mezzo. Osiride passa nella zona abitabile due volte all'anno per tre mesi e mezzo durante la primavera mentre si avvicina alla stella e per altri tre mesi e mezzo in autunno quando invece viene proiettato nel buio dello spazio. La vita potrebbe sopravvivere al di fuori della zona abitabile. Potrebbero esistere organismi capaci di andare in letargo come fanno alcuni animali terrestri durante l'inverno. Se vi sembra assurdo provate a pensare alle zone intertidali sulla Terra. In questi ambienti la vita prolifera senza problemi nonostante il cambiare costante delle condizioni. con l'alta marea l'acqua ricopre buona parte delle forme viventi mentre durante la bassa marea queste riemergono a secco ma riescono comunque a prosperare. Lo strano ciclo orbitale del pianeta Yoyo crea assaltuariamente condizioni favorevoli alla vita ma anche alla morte. altri mondi alieni sono ancora più bizzarri. Immaginate un pianeta che non ha una stella intorno alla quale orbitare. Gli studiosi ipotizzano che la nostra galassia sia piena di pianeti dispersi alla deriva sulle rotte più oscure dello spazio interstellare. Sono mondi orfani pianeti esclusi dai loro sistemi solari dal caos della migrazione planetaria. Gli astronomi li chiamano Planimo. Un Planimo è un pianeta senza stella che viaggia alla deriva nella galassia. Quale forza sarebbe capace di scacciare un pianeta da un sistema solare? Quando una stella si forma con un contingente di pianeti orbitanti e questi interagiscono tra loro spinti dalle rispettive forze gravitazionali e per effetto di queste interazioni qualcuno può anche essere lanciato all'esterno. Qualunque pianeta che venga scacciato da un sistema solare per una collisione o una fionda gravitazionale esce rapidamente dalla zona abitabile. Ci sono centinaia di miliardi di questi pianeti sfortunati sperduti nella nostra Via Lattea che vagano solitari senza guida e senza meta. Freddi bui e silenziosi i Planimo non hanno un sole quindi non hanno giorni né anni. rimangono bloccati all'interno di una notte eterna. Sono raminghi solitari sentinelle della galassia. Ma solo perché vanno alla deriva nello spazio non significa che siano morti. se il Planimo è di natura rocciosa potrebbe essere abitato. Un piccolo Planimo roccioso privo di atmosfera piomberebbe nel freddo più estremo molto più freddo del più freddo giorno d'inverno al nostro polo sud. Ma un Planimo abbastanza grande da conservare un'atmosfera potrebbe mantenere il calore prodotto dalla formazione del pianeta. Sarebbe il perfetto effetto serra. Il calore e l'energia sarebbero forniti dal nucleo interno del pianeta stesso. Se il Planimo fosse invece un gigante gassoso simile a Giove potrebbe avere un sistema di lune. La trazione gravitazionale tra il pianeta e le lune creerebbe frizione che causerebbe il riscaldamento dei nuclei delle lune. Potrebbero essere geologicamente attive come io una delle lune di Giove la cui energia è generata dall'interazione con Giove stesso e le altre lune. Questo mondo non potrebbe essere abitato da forme di vita complesse ma al massimo da organismi unicellulari simili ai nostri batteri. Non potendo eseguire la fotosintesi per la mancanza di una stella questi organismi deriverebbero la loro energia dalle sostanze presenti nel terreno. Condizioni simili esistono anche sulla terra. Colonie di batteri sopravvivono infatti nel profondo di pozzi minerari in Sud Africa. Non hanno accesso ad alcuna fonte di ossigeno o di luce e sopravvivono unicamente con le sostanze che estraggono dalla terra. Hanno un metabolismo lentissimo e si riproducono solo una volta ogni mille anni. un organismo simile si potrebbe originare nel primo periodo di vita del planimo per poi sopravvivere durante il suo esilio. Mentre i planimo vagano indisturbati un altro mondo è attraversato da fenomeni violentissimi sin dall'alba dei tempi. 2003 gli astronomi confermano l'esistenza di un remoto relitto nella costellazione dello scorpione. Quasi tutti i pianeti extrasolari sono localizzati nel disco principale della nostra galassia. ma questo mondo galleggia ben al di sopra del piano della Via Lattea in un ammasso di quasi 10.000 stelle primordiali. Il pianeta B162026 è meglio conosciuto col suo soprannome di pianeta Matusalemme in onore dell'uomo più vecchio citato nella Bibbia. è stato soprannominato Matusalemme perché appartiene ad un ammasso stellare vecchio di 12 miliardi di anni. La nostra terra è una specie di adolescente se confrontata a Matusalemme. Circa 8 miliardi prima della formazione della terra Matusalemme è un giovane gigante gassoso forse sconvolto da venti terribili e accompagnato da numerose lune. col passare dei millenni i venti si calmano lasciandosi dietro un mondo pacifico. Improvvisamente due stelle sorgono nel cielo. Sono stelle di neutroni nuclei collassati di astri morti da tempo. Nell'ambiente affollato di un ammasso globulare si verificano collisioni o eventi che causano l'allontanamento di una stella o la formazione di sistemi binari. In una danza gravitazionale simile alla migrazione dei pianeti una delle stelle di neutroni viene espulsa e sostituita dalla stella madre di Matusalemme. Matusalemme è ora un pianeta con due soli. Ogni giorno ha due albe e due tramonti. Le nuvole e tutti gli altri oggetti proiettano due ombre. Col tempo la stella madre inizia ad espandersi un segno che indica la sua morte imminente. Si gonfia fino a diventare una gigante rossa e inizia a perdere materia verso la stella di neutroni che finisce poi col divorarla. Oggi Matusalemme è un mondo imprigionato dagli scheletri di due stelle morte. Il nucleo collassato della sua stella madre e la sua compagna la stella di neutroni. matusalemme è un sopravvissuto. Ma non è niente in confronto alle bizzarre anomalie di una pulsar a 980 anni luce dalla terra nella costellazione della Vergine. da lontano una pulsar sembra una luce intermittente ma da vicino somiglia più a un'immensa mitragliatrice che spara radiazioni da tutte le parti. Non sono compagni ideali di un pianeta e pure qualcosa interferisce con la precisione di questa pulsar. Una spiegazione è che l'anomalia sia causata da un pianeta ma molti astronomi sono scettici sulla possibilità che un pianeta possa orbitare intorno a una pulsar. Il fatto è che le pulsar si formano con un'incredibile esplosione. Quando una gigante rossa esplode l'evento devastante detto supernova rilascia in un minuto un'energia pari a quella prodotta dal nostro sole in tutta la sua vita quando si verifica una supernova viene prodotta un'onda d'urto che travolge ogni cosa vicina una volta diradatasi la polvere tutto ciò che rimane è il cuore collassato della gigante rossa che pulsa al centro di un campo di detriti in espansione la materia proiettata all'esterno dall'esplosione ricade verso la pulsar formando un disco da questi eventi caotici emerge un nuovo mondo creato dal fuoco e dalla distruzione uno zombie planetario che emerge dalla carcassa della vecchia gigante rossa è incredibile che sia nato in quelle condizioni stare su un pianeta che orbita intorno ad una pulsar sarebbe come trovarsi in una discoteca con una forte luce stroboscopica le radiazioni prodotte da questo mostro stellare distruggono le molecole necessarie alla vita la pulsar produce un campo magnetico fortissimo che si porta dietro nel suo moto di rapida rotazione e che raccoglie altro materiale elettroni e protoni che vengono poi scagliati all'esterno ad alta velocità come in un vento solare potenziato non posso immaginare una possibilità neanche per la più semplice delle forme di vita su un pianeta orbitante intorno a una pulsar se si trovasse sposta alle radiazioni ne verrebbe distrutta e se si proteggesse non avrebbe alcuna fonte di energia l'ipotesi dei pianeti pulsar mostra come un mondo possa nascere anche dalla distruzione di una stella ma ovunque si verifichi la formazione di un pianeta è sempre un processo pericoloso a volte la violenza dell'evento è tale che la fine del mondo arriva prima del suo inizio 2007 gli astronomi a lavoro nel telescopio Gemini Nord fanno una strana scoperta nell'ammasso delle Pleiadi a circa 400 anni luce dalla terra una stella conosciuta solo col suo numero di catalogo HD 23514 è circondata da una gigantesca nube di polveri e gas a forma di ciambella la stella ha solo 100 milioni di anni d'età in termini astronomici è poco più di una neonata il nostro sole è 45 volte più vecchio le condizioni sono perfette per la formazione di pianeti ma l'analisi spettrografica rivela qualcosa di strano la polvere particolarmente fine tipicamente una stella neonata è circondata da pianeti in formazione i pianeti si formano intorno alla stella giovane in dischi protoplanetari di gas e polvere dopodiché iniziano i loro moti orbitali magari su rotte di collisione l'uno con l'altro miliardi di anni fa due pianeti primordiali in orbita intorno a HD 23514 si avviano verso il disastro mentre i due mondi si avvicinano le forze di marea li trascinano e li deformano e li deformano i due pianeti vengono annientati creando la nube di polvere intorno alla stella HD 23514 ma c'è anche un altro pianeta di cui non conoscevamo ancora l'esistenza non è semplicemente un pianeta è un nuovo tipo di pianeta una super terra mi piace il termine super terra sono pianeti simili al nostro ma più grandi fino a dieci volte più grandi un sottogruppo potrebbe avere continenti e oceani altri potrebbero essere completamente aridi come Marte un'altra famiglia infine sarebbe composta dai cosiddetti pianeti oceanici completamente ricoperti d'acqua benvenuti su Gliese 581C è un pianeta scoperto da Michelle Maior e orbita insieme ad altri due intorno a una piccola stella è ad appena 20 anni luce da noi nella costellazione della bilancia ed è uno dei più piccoli pianeti extrasolari di tipo terrestre il che non vuol dire che sia veramente piccolo è pur sempre una super terra con una massa 5 volte superiore a quella del nostro pianeta e la possibilità che vi si trovi acqua liquida affascina gli astronomi stare su un pianeta oceanico sarebbe come trovarsi in mezzo al pacifico senza il minimo segno di terra immersa il cielo sarebbe azzurro con qualche nuvoletta i venti di un pianeta oceanico sarebbero simili a quelli della terra quindi sarebbe un bel posto per andare in barca a vela il tempo sarebbe davvero perfetto ogni giorno un cielo azzurro con il sole sempre fermo nello stesso punto niente male vero? nessuna terra in vista neanche ben al di sotto della superficie in presenza di simili quantità d'acqua sul fondo dell'oceano vi sarebbero pressioni enormi superiori a un milione di atmosfere che comprimerebbero l'acqua circostante in uno stato diverso da quello liquido che chiamiamo ghiaccio 7 no non è come il ghiaccio del freezer nel ghiaccio che conosciamo le molecole sono ammucchiate alla rinfusa ma nel ghiaccio che si forma ad altissime pressioni le molecole si allineano in modo ordinato questo cristallo può darvi l'idea di cosa sia il ghiaccio 7 è alite meglio conosciuta come salgemma il ghiaccio 7 potrebbe esistere anche nel nostro sistema solare Europa una delle lune di Giove è ricoperta da una crosta di ghiaccio che nasconde forse un mantello di acqua liquida la pressione della crosta è tale da permettere in teoria la formazione del ghiaccio 7 sul fondo di questo oceano se potessimo espandere Europa e trasportarlo fuori dal sistema solare avremmo un mondo simile a glise 581C un pianeta oceanico potrebbe ospitare la vita del resto l'acqua è essenziale per la vita sulla terra sulla terra ovunque vi sia acqua c'è vita non è possibile trovare una goccia d'acqua sterile in natura bisogna sterilizzarla artificialmente in questo mondo potrebbero vivere batteri ma anche organismi complessi ma non tutte le superterre sono mondi adatti alla vita quando parliamo di superterre parliamo soprattutto di due gruppi pianeti rocciosi con un po' d'acqua e pianeti interamente ricoperti d'acqua ma bisogna aggiungere anche un terzo gruppo di pianeti probabilmente molto rari chiamati pianeti di carbonio un pianeta di carbonio è diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto un posto con una chimica diversa dalla nostra ma pieno di tesori alquanto terrestri la nostra galassia è piena di pianeti deserti freddi e inospitali ma la scienza è sulle tracce di un nuovo tipo di pianeta un vero e proprio mondo di tesori nel nostro sistema solare sul sole e anche sulle stelle vicine l'ossigeno è sempre più frequente del carbonio ma se pensiamo ad un luogo in cui sia più diffuso il carbonio la formazione planetaria sarebbe molto diversa l'analisi spettrografica mostra come il carbonio sia molto più abbondante a 26.000 anni luce da noi vicino al centro della galassia i pianeti che si formano qui potrebbero presentare grandi concentrazioni di carbonio il cielo mattutino su un mondo simile sarebbe tutt'altro che azzurro mi immagino una nebbia gialla con nuvole di fuligine nera e scendendo nell'atmosfera potremmo vedere laghi fatti di composti del carbonio come il metano e pozze ribollenti e maleodoranti piene di melma nera simili a pozzi di petrolio vista la quasi totale mancanza d'acqua nell'atmosfera l'aria sarebbe fatta di composti del carbonio metano butano pentano benzene tutti i vari composti del carbonio che si ottengono nella raffinazione della benzina un giorno potrebbe piovere benzene e il giorno dopo potrebbe piovere butano per quanto alieno possa sembrare un posto del genere la sua aria potrebbe esserci familiare l'aria di un pianeta molto ricco di benzene ricorderebbe quella di Los Angeles piena di particelle simili a quelle prodotte dalle auto che respiriamo tutti i giorni nonostante tutto questi pianeti potrebbero avere anche caratteristiche attraenti potrebbero essere pieni di diamanti visto che sarebbero composti da grandi quantità di carbonio puro che se compresso ad alte pressioni tende ad aggregarsi in diamante in tutta la galassia vi sono mondi segreti come questi pronti per essere scoperti ma gli astronomi non saranno soddisfatti finché non troveranno il sacro graal un pianeta come il nostro un mondo pieno di vita un'altra terra tutti mi chiedono sempre se penso che troveremo mai un pianeta come il nostro e io rispondo che ne sono certa ogni stella ha probabilmente pianeti di dimensioni simili alla terra pensiamo che quasi ogni stella possiede pianeti di massa terrestre quindi se ci sono 200 miliardi di stelle nella galassia vuol dire che ci sono almeno 400 miliardi di pianeti 400 miliardi di terre l'osservatorio spaziale Keplero è il primo strumento capace di trovare uno di questi mondi Keplero studia la costellazione del Cigno una regione con ben 100.000 stelle fa una foto dietro l'altra un minuto dopo l'altro e il suo obiettivo è semplice trovare stelle la cui luce si affievolisce quando una stella si affievolisce leggermente vuol dire che un pianeta le sta passando davanti bloccando parte della sua luce la durata della diminuzione e la quantità di luce bloccata riveleranno agli astronomi le dimensioni del pianeta e la sua distanza dalla stella un buon esempio potrebbe essere guardare la luce di un faro e osservare quanto si affievolisce quando una falena le passa davanti come immaginate è una diminuzione appena avvertibile è una tecnica molto potente perché permette di scoprire la presenza di pianeti anche più piccoli della Terra intorno a stelle simili al Sole è una tecnica che sta cambiando il corso della scienza pensiamo di trovare un pianeta abitabile nel giro di pochi anni gli scienziati stimano che la missione Keplero scopra un minimo di 50 terre aliene una delle domande che assilla tutti noi che cerchiamo vita extraterrestre è se scoprissimo la vita senza riconoscerla come tale le condizioni ambientali dei mondi alieni potrebbero far evolvere la vita in modo diverso la mia speranza è di vedere qualche segno che ci faccia rimanere a bocca aperta qualunque sarà il segno rappresenterà il primo capitolo della più grande storia scientifica mai raccontata lassù sperduti nella vastità dello spazio vi sono pianeti più strani di quanto uno scrittore di fantascienza possa immaginare per la prima volta nella storia gli astronomi stanno scoprendo mondi al di là del nostro sistema solare posti dove il ghiaccio è caldo e la pioggia è fatta di ferro sono sconosciuti bizzarri e imprevedibili e da qualche parte nascosta tra questi strani mondi gli studiosi potrebbero effettuare la più grande scoperta della storia un pianeta come il nostro un mondo alieno 6 marzo 2009 questo razzo delta 2 sta completando i controlli pre lancio è l'inizio di una missione incredibilmente ambiziosa l'osservatorio spaziale cheplero passerà al setaccio 100.000 stelle in cerca di pianeti di tipo terrestre è il culmine di un viaggio iniziato più di 10 anni fa con una delle più importanti scoperte scientifiche di sempre nel 1995 l'astronomo svizzero Michel Maillor e il suo team conducono un'osservazione di routine sulle stelle nella costellazione di Pegaso a 50 anni luce da noi ma gli strumenti mostrano qualcosa di strano una stella ondeggia e sbanda violentemente una delle stelle mostrava una velocità variabile nel tempo cosa può essere in grado di disturbare una stella grande come il nostro sole Maillor dà una risposta radicale un pianeta ma nessuno ha mai visto un pianeta intorno a un'altra stella simile al sole il problema di trovare pianeti intorno alle altre stelle è che si perdono nel bagliore la luce flebile dei pianeti si perde nel bagliore delle stelle a dispetto delle probabilità Maillor si fida dei suoi dati e è convinto che gli sbandamenti siano causati dalla trazione gravitazionale di un pianeta quando lessi della scoperta di Michel Maillor fui molto scettico c'erano state molte false scoperte di pianeti extrasolari quindi pensai ecco ci risiamo però decisi di osservare la stella per quattro notti di seguito e rimasi senza parole nel constatare che Michel aveva assolutamente ragione Maillor e il suo collega Didier Kelo annunciano la scoperta che scuote alle radici il mondo scientifico avevano ottenuto le prime prove riproducibili dell'esistenza di un pianeta intorno ad una stella simile al sole chiamato ufficialmente 51 Pegasi B il pianeta viene soprannominato Bellerofonte come l'eroe greco capace di domare il cavallo alato Pegaso è un pianeta che infrange tutte le regole Bellerofonte brucia nella luce della sua stella a temperature di circa 1800 gradi Fahrenheit quindi quasi 1000 gradi centigradi è quasi 150 volte più massiccio della terra ed è un gigante gassoso come Giove sono pianeti fatti più che altro di idrogeno ed elio che negli strati esterni rimangono gas ma all'interno vengono compressi a pressioni tali da cambiare stato si tratta di un pianeta diverso da quelli del nostro sistema solare è quello che gli astronomi chiamano un Giove caldo per farvi un'idea di cosa sia un Giove caldo pensate ad un flusso di lava incandescente la terra si trova a 93 milioni di miglia o 150 milioni di chilometri dal suo sole i Giove caldi sono 100 volte più vicini alla stella e assorbono 10.000 volte più luce solare mettiamo che questa sia una stella e questo un Giove caldo che si trova di solito a circa 3 diametri stellari quindi sarebbe 1 2 3 la distanza tra i due sarebbe questa i Giovi caldi hanno una rotazione sincrona e mostrano alla stella sempre lo stesso lato come la nostra luna con la terra su un lato è sempre giorno e sull'altro è sempre notte se mi trovassi su un Giove caldo dovrei rimanere sul lato oscuro sperando di usufruire di un po' del calore proveniente dall'altra metà le escursioni termiche rendono l'atmosfera di Bellerofonte estremamente ventosa l'aria bruciata dalla stella sale di quota aria più fresca soffia rapidamente verso il basso per rimpiazzarla proprio come sulla terra il risultato è un vento a migliaia di chilometri all'ora ben al di là di ogni nostra immaginazione l'estremo irraggiamento non permette l'esistenza di vapore acqueo ma questo non vuol dire che non vi sia pioggia è troppo caldo perché si formino nuvole d'acqua ma non troppo caldo per nuvole di ferro il vapore di ferro resiste a temperature molto più elevate rispetto all'acqua le piogge quindi sarebbero diverse da quelle che conosciamo certo non basterebbe uscire con l'ombrello la pioggia di ferro lo ricoprirebbe in un istante e lo farebbe a pezzi il cielo di Bellerofonte è interamente occupato da cortine di colore particelle cariche provenienti dalla stella causano aurore molto più spettacolari di quelle visibili ai nostri poli ma questo mondo appena scoperto ha una caratteristica ancora più incredibile compie un'orbita completa in poco più di quattro giorni nessun pianeta che si rispetti gira intorno al sole in così poco tempo nel nostro sistema solare non abbiamo niente del genere la brevità dell'orbita rappresenta una sfida alle ipotesi consolidate sulla formazione dei pianeti il fatto che il pianeta concludesse un'orbita in quattro giorni era un enigma finché una notte mi venne un'illuminazione poteva essere la prova che i pianeti possono migrare verso l'interno dell'orbita la risposta emerge proprio dal meccanismo di formazione dei pianeti i pianeti sono un prodotto secondario della nascita delle stelle quest'ultime creano un grande disco di polveri nel quale si formano anche i pianeti molto di quanto sappiamo in proposito lo dobbiamo al telescopio Hubble e alle sue osservazioni sulla nebulosa dell'Aquila questa nube interstellare è piena di dischi di polveri e gas al centro di ogni disco si forma un gigantesco grumo di polveri le temperature raggiungono i 10 milioni di gradi centigradi e si producono gli stessi fenomeni di fusione nucleare che tengono in vita il nostro sole è nata una stella le radiazioni prodotte dall'evento generano un vento stellare che spazza via le polveri residue ma piccole quantità di detriti sopravvivono e rimangono in orbita intorno alla stella neonata col passare del tempo la polvere si aggrega in corpuscoli che poi diventano asteroidi che poi diventano pianeti i nuovi pianeti migrano all'interno del disco fino a trovare un'orbita stabile è per questo che Bellerofonte è così vicino alla sua stella madre ma un altro mondo appena scoperto ha trovato la sua orbita in un punto in cui nessun pianeta dovrebbe avventurarsi 2001 il telescopio spaziale Hubble punta verso una stella misconosciuta a circa 150 anni luce dalla Terra nella costellazione di Pegaso è la stessa regione dove sei anni prima è stato scoperto Bellerofonte Hubble sta seguendo un nuovo Giove Caldo scoperto dall'astronomo Geoff Marcy ma questo pianeta è diverso dal precedente ne avrete sentito parlare è HD 209458B è un nome terribile un nome terribile per un posto orribile HD 209458B è stato soprannominato Osiride come il dio dei morti degli antichi egizi Osiride Osiride è ben 200 volte più massiccio della Terra e si è avvicinato pericolosamente al suo sole distante appena 4 milioni di miglia circa 6,5 milioni di chilometri dalla superficie della stella Osiride è un vero e proprio inferno la temperatura media giornaliera è di più di 1000 gradi centigradi più che un riscaldamento globale questa è una frittura globale che fa sì che Osiride perda 500.000 tonnellate d'aria ogni secondo c'è una perdita un flusso costante di idrogeno ed elio che crea una grande nube intorno al pianeta è una sorta di immensa emorragia gli scienziati ipotizzano la presenza di una colossale scia di gas che segue il pianeta per migliaia di chilometri Osiride rappresenta un'opportunità senza precedenti per gli astronomi usando Hubble analizzano la turbolenta atmosfera del pianeta per la prima volta possiamo conoscere la composizione dell'atmosfera di un pianeta extrasolare planet sorprendentemente Hubble rileva molti degli elementi chimici necessari alla vita sodio carbonio idrogeno e ossigeno ma Osiride è troppo caldo per la vita come la conosciamo noi in realtà esistono organismi che vivono ad alte temperature ma i Giavicaldi non hanno una superficie solida quindi la vita si ridurrebbe a microbi galleggianti nell'atmosfera sulla terra ne abbiamo vari esempi che però si sono trasferiti nell'atmosfera in un secondo tempo il che esclude che Osiride possa ospitare la vita gli astronomi hanno individuato molti giovi caldi dopo la scoperta di Bellerofonte nel 95 ma le condizioni di questi mondi rende impossibile lo sviluppo della vita tuttavia uno di questi giganti gassosi propone una serie di enigmi evoluzionistici Geoff Marcy ha scoperto l'incredibile comportamento di un pianeta orbitante intorno a una stella chiamata 16 signus b a circa 70 anni luce da noi nella costellazione del Cigno il pianeta assumeva un'orbita chiaramente allungata che lo portava molto vicino e molto lontano dalla stella madre questo andava contro le nostre concezioni basate sul nostro sistema solare dove tutti i pianeti girano intorno al Sole in orbite quasi circolari come i solchi di un disco in vinile come un enorme yo-yo spaziale il pianeta gigante uscilla avanti e indietro nel suo sistema solare è come se la Terra si avvicinasse al Sole di 25 milioni di miglia più di 40 milioni di chilometri per poi essere catapultata oltre Marte e verso Giove ogni anno e come tutti i giganti gassosi del nostro sistema solare questo pianeta yo-yo possiede alcune lune Mars ipotizza che una di queste lune possa essere simile alla Terra è qui che la storia si fa interessante immaginate una luna rocciosa con laghi oceani forse anche corsi d'acqua in superficie la luna orbita intorno al suo pianeta e insieme ad esso orbita intorno alla stella a differenza della nostra luna priva di atmosfera questo sarebbe un mondo vivo e dalle stagioni estreme sulla Terra le stagioni sono causate dalla sua inclinazione qui sono causate dall'orbita allungata un pianeta con orbita così allungata non può non subire tremende variazioni stagionali nel corso dell'anno mentre si avvicinano al punto più prossimo alla stella il pianeta e la luna vengono completamente bruciati è l'inizio dell'estate l'atmosfera sulla luna è spazzata da tempeste devastanti i nostri uragani di categoria 5 sono sbuffi di vento in confronto ai mostruosi vortici che si formano qui l'acqua superficiale evapora e forma una coltre di nubi le temperature crescono vertiginosamente l'acqua e i gas si riscaldano interi oceani diventano vapore una sorta di gigantesca sauna al culmine dell'estate la luna presenta temperature superiori ai 400 gradi centigradi è il punto di maggior avvicinamento alla stella l'anno dura 26 mesi solo due dei quali occupati dall'estate ma che estate poi il pianeta e la sua luna si allontanano dalla zona calda le temperature calano fino a livelli che noi troveremmo confortevoli con l'arrivo dell'autunno le piogge tornano a bagnare la superficie bruciata della luna i bacini secchi degli oceani tornano a riempirsi il livello del mare cresce e ridisegna le coste le condizioni tornano tranquille mentre il pianeta e la luna scendono nel gelo profondo dell'inverno ora a più di 200 milioni di miglia o 320 milioni di chilometri dalla stella il cielo è buio anche di giorno le temperature crollano fino a meno 160 gradi centigradi gli oceani ghiacciano e le calotte polari si espandono chiudendo la superficie della luna in uno strato di ghiaccio spesso diversi chilometri l'inverno è lungo ben 17 mesi ma con l'arrivo della primavera la stella torna a splendere nel cielo spezzando e sciogliendo violentemente la coltre di ghiaccio grandi iceberg crollano in un oceano tempestoso e in rapida crescita per due brevi e preziosi periodi il disgelo primaverile e le piogge autunnali il clima della luna diventa vivibile e confortevole a circa 93 milioni di miglia o 150 milioni di chilometri dalla stella una distanza simile a quella tra noi e il sole l'orbita ellittica del pianeta e della sua luna attraversa un'area che gli scienziati chiamano zona abitabile le condizioni qui sono perfette per la vita la vita ha bisogno di condizioni particolarmente equilibrate il pianeta non deve essere né troppo vicino né troppo lontano dalla stella ogni stella ha una zona abitabile la cui posizione e ampiezza dipende dalle sue dimensioni e dalla sua temperatura nel nostro sistema solare venere segnala il limite interno e marte quello esterno la terra e tutte le sue forme di vita si trovano esattamente nel mezzo osiride passa nella zona abitabile due volte all'anno per tre mesi e mezzo durante la primavera mentre si avvicina alla stella e per altri tre mesi e mezzo in autunno quando invece viene proiettato nel buio dello spazio la vita potrebbe sopravvivere al di fuori della zona abitabile potrebbero esistere organismi capaci di andare in letargo come fanno alcuni animali terrestri durante l'inverno se vi sembra assurdo provate a pensare alle zone intertidali sulla terra in questi ambienti la vita prolifera senza problemi nonostante il cambiare costante delle condizioni con l'alta marea l'acqua ricopre buona parte delle forme viventi mentre durante la bassa marea queste riemergono a secco ma riescono comunque a prosperare lo strano ciclo orbitale del pianeta io-yo crea saltuariamente condizioni favorevoli alla vita ma anche alla morte altri mondi alieni sono ancora più bizzarri immaginate un pianeta che non ha una stella intorno alla quale orbitare gli studiosi ipotizzano che la nostra galassia sia piena di pianeti dispersi alla deriva sulle rotte più oscure dello spazio interstellare sono mondi orfani pianeti esclusi dai loro sistemi solari dal caos della migrazione planetaria gli astronomi li chiamano planimo un planimo è un pianeta senza stella che viaggia alla deriva nella galassia quale forza sarebbe capace di scacciare un pianeta da un sistema solare quando una stella si forma con un contingente di pianeti orbitanti e questi interagiscono tra loro spinti dalle rispettive forze gravitazionali e per effetto di queste interazioni qualcuno può anche essere lanciato all'esterno qualunque pianeta che venga scacciato da un sistema solare per una collisione o una fionda gravitazionale esce rapidamente dalla zona abitabile ci sono centinaia di miliardi di questi pianeti sfortunati sperduti nella nostra via lattea che vagano solitari senza guida e senza meta freddi bui e silenziosi i planimo non hanno un sole quindi non hanno giorni né anni rimangono bloccati all'interno di una notte eterna sono raminghi solitari sentinelle della galassia ma solo perché vanno alla deriva nello spazio non significa che siano morti se il planimo è di natura rocciosa potrebbe essere abitato un piccolo planimo roccioso privo di atmosfera piomberebbe nel freddo più estremo molto più freddo del più freddo giorno d'inverno al nostro polo sud ma un planimo abbastanza grande da conservare un'atmosfera potrebbe mantenere il calore prodotto dalla formazione del pianeta sarebbe il perfetto effetto serra il calore e l'energia sarebbero forniti dal nucleo interno del pianeta stesso se il planimo fosse invece un gigante gassoso simile a Giove potrebbe avere un sistema di lune la trazione gravitazionale tra il pianeta e le lune creerebbe frizione che causerebbe il riscaldamento dei nuclei delle lune potrebbero essere geologicamente attive come io una delle lune di Giove la cui energia è generata dall'interazione con Giove stesso e le altre lune questo mondo non potrebbe essere abitato da forme di vita complesse ma al massimo da organismi unicellulari simili ai nostri batteri non potendo eseguire la fotosintesi per la mancanza di una stella questi organismi deriverebbero la loro energia dalle sostanze presenti nel terreno condizioni simili esistono anche sulla terra colonie di batteri sopravvivono infatti nel profondo di pozzi minerari in Sudafrica non hanno accesso ad alcuna fonte di ossigeno o di luce e sopravvivono unicamente con le sostanze che estraggono dalla terra hanno un metabolismo lentissimo e si riproducono solo una volta ogni mille anni un organismo simile si potrebbe originare nel primo periodo di vita del planimo per poi sopravvivere durante il suo esilio mentre i planimo vagano indisturbati un altro mondo è attraversato da fenomeni violentissimi sin dall'alba dei tempi 2003 gli astronomi confermano l'esistenza di un remoto relitto nella costellazione dello scorpione quasi tutti i pianeti extrasolari sono localizzati nel disco principale della nostra galassia ma questo mondo galleggia ben al di sopra del piano della Via Lattea in un ammasso di quasi 10.000 stelle primordiali il pianeta B162026 è meglio conosciuto col suo soprannome di pianeta Matusalemme in onore dell'uomo più vecchio citato nella Bibbia è stato soprannominato Matusalemme perché appartiene ad un ammasso stellare vecchio di 12 miliardi di anni la nostra terra è una specie di adolescente se confrontata a Matusalemme circa 8 miliardi prima della formazione della terra Matusalemme è un giovane gigante gassoso forse sconvolto da venti terribili e accompagnato da numerose lune col passare dei millenni i venti si calmano lasciandosi dietro un mondo pacifico improvvisamente due stelle sorgono nel cielo sono stelle di neutroni nuclei collassati di astri morti da tempo nell'ambiente affollato di un ammasso globulare si verificano collisioni o eventi che causano l'allontanamento di una stella o la formazione di sistemi binari in una danza gravitazionale simile alla migrazione dei pianeti una delle stelle di neutroni viene espulsa e sostituita dalla stella madre di Matusalemme Matusalemme è ora un pianeta con due soli ogni giorno ha due albe e due tramonti le nuvole e tutti gli altri oggetti proiettano due ombre col tempo la stella madre inizia ad espandersi un segno che indica la sua morte imminente si gonfia fino a diventare una gigante rossa e inizia a perdere materia verso la stella di neutroni che finisce poi col divorarla oggi Matusalemme è un mondo imprigionato dagli scheletri di due stelle morte il nucleo collassato della sua stella madre e la sua compagna la stella di neutroni matusalemme è un sopravvissuto ma non ha niente in confronto alle bizzarre anomalie di una pulsar a 980 anni luce dalla terra nella costellazione della vergine da lontano una pulsar sembra una luce intermittente ma da vicino somiglia più a un'immensa mitragliatrice che spara radiazioni da tutte le parti non sono compagni ideali di un pianeta eppure qualcosa interferisce con la precisione di questa pulsar una spiegazione è che l'anomalia sia causata da un pianeta ma molti astronomi sono scettici sulla possibilità che un pianeta possa orbitare intorno a una pulsar il fatto è che le pulsar si formano con un'incredibile esplosione quando una gigante rossa esplode l'evento devastante detto supernova rilascia in un minuto un'energia pari a quella prodotta dal nostro sole in tutta la sua vita quando si verifica una supernova viene prodotta un'onda d'urto che travolge ogni cosa vicina una volta diradatasi la polvere tutto ciò che rimane è il cuore collassato della gigante rossa che pulsa al centro di un campo di detriti in espansione la materia proiettata all'esterno dall'esplosione ricade verso la pulsar formando un disco da questi eventi caotici emerge un nuovo mondo creato dal fuoco e dalla distruzione uno zombie planetario che emerge dalla carcassa della vecchia gigante rossa è incredibile che sia nato in quelle condizioni stare su un pianeta che orbita intorno ad una pulsar sarebbe come trovarsi in una discoteca con una forte luce stroboscopica le radiazioni prodotte da questo mostro stellare distruggono le molecole necessarie alla vita la pulsar produce un campo magnetico fortissimo che si porta dietro nel suo moto di rapida rotazione e che raccoglie altro materiale elettroni e protoni che vengono poi scagliati all'esterno ad alta velocità come in un vento solare potenziato non posso immaginare una possibilità neanche per la più semplice delle forme di vita su un pianeta orbitante intorno a una pulsar se si trovasse esposta alle radiazioni ne verrebbe distrutta e se si proteggesse non avrebbe alcuna fonte di energia l'ipotesi dei pianeti pulsar mostra come un mondo possa nascere anche dalla distruzione di una stella ma ovunque si verifichi la formazione di un pianeta è sempre un processo pericoloso a volte la violenza dell'evento è tale che la fine del mondo arriva prima del suo inizio 2007 gli astronomi a lavoro nel telescopio Gemini Nord fanno una strana scoperta nell'ammasso delle Pleiadi a circa 400 anni luce dalla Terra una stella conosciuta solo col suo numero di catalogo HD 23514 è circondata da una gigantesca nube di polveri e gas a forma di ciambella la stella ha solo 100 milioni di anni d'età in termini astronomici è poco più di una neonata il nostro sole è 45 volte più vecchio le condizioni sono perfette per la formazione di pianeti ma l'analisi spettrografica rivela qualcosa di strano la polvere particolarmente fine tipicamente una stella neonata è circondata da pianeti in formazione i pianeti si formano intorno alla stella giovane in dischi protoplanetari di gas e polvere dopodiché iniziano i loro moti orbitali magari su rotte di collisione l'uno con l'altro miliardi di anni fa due pianeti primordiali in orbita intorno a HD 23514 si avviano verso il disastro mentre i due mondi si avvicinano le forze di marea li trascinano e li deformano i due pianeti vengono annientati creando la nube di polvere intorno alla stella HD 23514 ma c'è anche un altro pianeta di cui non conoscevamo ancora l'esistenza non è semplicemente un pianeta è un nuovo tipo di pianeta una super terra mi piace il termine super terra sono pianeti simili al nostro ma più grandi fino a 10 volte più grandi un sottogruppo potrebbe avere continenti e oceani altri potrebbero essere completamente aridi come Marte un'altra famiglia infine sarebbe composta dai cosiddetti pianeti oceanici completamente ricoperti d'acqua benvenuti su glise 581c è un pianeta scoperto da Michel Mayor e orbita insieme ad altri due intorno a una piccola stella è ad appena 20 anni luce da noi nella costellazione della bilancia ed è uno dei più piccoli pianeti extrasolari di tipo terrestre il che non vuol dire che sia veramente piccolo è pur sempre una super terra con una massa 5 volte superiore a quella del nostro pianeta e la possibilità che vi si trovi acqua liquida affascina gli astronomi stare su un pianeta oceanico sarebbe come trovarsi in mezzo al pacifico senza il minimo segno di terra immersa il cielo sarebbe azzurro con qualche nuvoletta i venti di un pianeta oceanico sarebbero simili a quelli della terra quindi sarebbe un bel posto per andare in barca a vela il tempo sarebbe davvero perfetto ogni giorno un cielo azzurro con il sole sempre fermo nello stesso punto niente male vero nessuna terra in vista neanche ben al di sotto della superficie in presenza di simili quantità d'acqua sul fondo dell'oceano vi sarebbero pressioni enormi superiori a un milione di atmosfere che comprimerebbero l'acqua circostante in uno stato diverso da quello liquido che chiamiamo ghiaccio 7 no non è come il ghiaccio del freezer nel ghiaccio che conosciamo le molecole sono ammucchiate alla rinfusa ma nel ghiaccio che si forma ad altissime pressioni le molecole si allineano in modo ordinato questo cristallo può darvi l'idea di cosa sia il ghiaccio 7 è alite meglio conosciuta come salgemma il ghiaccio 7 potrebbe esistere anche nel nostro sistema solare Europa una delle lune di Giove è ricoperta da una crosta di ghiaccio che nasconde forse un mantello di acqua liquida la pressione della crosta è tale da permettere in teoria la formazione del ghiaccio 7 sul fondo di questo oceano se potessimo espandere Europa e trasportarlo fuori dal sistema solare avremmo un mondo simile a glise 581c un pianeta oceanico potrebbe ospitare la vita del resto l'acqua è essenziale per la vita sulla terra sulla terra ovunque vi sia acqua c'è vita non è possibile trovare una goccia d'acqua sterile in natura bisogna sterilizzarla artificialmente in questo mondo potrebbero vivere batteri ma anche organismi complessi ma non tutte le superterre sono mondi adatti alla vita quando parliamo di superterre parliamo soprattutto di due gruppi pianeti rocciosi con un po' d'acqua e pianeti interamente ricoperti d'acqua ma bisogna aggiungere anche un terzo gruppo di pianeti probabilmente molto rari chiamati pianeti di carbonio un pianeta di carbonio è diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto un posto con una chimica diversa dalla nostra ma pieno di tesori alquanto terrestri la nostra galassia è piena di pianeti deserti freddi e inospitali ma la scienza è sulle tracce di un nuovo tipo di pianeta un vero e proprio mondo di tesori nel nostro sistema solare sul sole e anche sulle stelle vicine l'ossigeno è sempre più frequente del carbonio ma se pensiamo ad un luogo in cui sia più diffuso il carbonio la formazione planetaria sarebbe molto diversa l'analisi spettrografica mostra come il carbonio sia molto più abbondante a 26.000 anni luce da noi vicino al centro della galassia i pianeti che si formano qui